Sono come quasi tutti lontano da tutte quelle che ho sempre considerato essere le mie principali libertà. Proprio per questo mi piacerebbe leggervi un capitolo di un libro che io amo molto, ovvero il profeta di Khalil Gibran, questo libro, ed in particolare è il capitolo che parla appunto di libertà. E un oratore chiese, parlaci della libertà, ed il profeta risposa Alle porte della città e presso il focolare vi ho visto prostrarvi e adorare la vostra libertà. Proprio come gli schiavi si umiliano davanti a un tiranno e lo lodano nonostante egli li uccida. Ahimè sì, nel boschetto del tempio e all'ombra della cittadella ho visto i più liberi fra voi indossare la libertà come gioco e manette. E dentro di me il cuore sanguinava, giacché potrete essere liberi soltanto quando persino il desiderio di cercare la libertà diventerà una bardatura e quando cesserete di parlare della libertà come di un traguardo e di un compimento. Voi sarete liberi in verità non quando i vostri giorni saranno senza affanni e le vostre notti senza un bisogno e un dolore, ma piuttosto quando queste cose vi cingeranno la vita e ciò nonostante vi eleverete al di sopra di esse, nudi e sciolti. E come potrete elevarvi al di sopra dei giorni e delle notti se non spezzerete le catene che voi stessi all'alba della vostra comprensione avete legato attorno al vostro mezzogiorno? Ciò che voi chiamate libertà è in verità la più forte di queste catene, sebbene i suoi anelli scintillino nel sole e abbaglino gli occhi. E cosa sono se non frammenti del vostro io, quelli che vorreste scartare per poter diventare liberi? Se è una legge ingiusta che vorreste abolire, quella legge è stata scritta con la vostra mano, sulla vostra fronte. Non potrete cancellarla bruciando i vostri libri di legge e neanche lavando la fronte dei vostri giudici e neppure versandovi sopra il mare. E se vorreste privare un despota del trono, badate prima di distruggere il suo trono, eretto dentro di voi. Poiché come può un tiranno dominare uomini liberi e fieri, se non a causa di un dispotismo nella loro stessa libertà e di una vergogna nel loro stesso orgoglio? Se è una preoccupazione che vorreste gettar via, quella preoccupazione è stata scelta da voi, piuttosto che impostavi. E se è una paura che vorreste disperdere, la sede di quella paura è nel vostro cuore e non nella mano della persona temuta. In verità tutte le cose si agitano nel vostro essere in un costante abbraccio, il desiderato e il temuto, il repugnante e il prediletto, l'inseguito e ciò che vorreste fuggire. Queste cose si muovono dentro di voi come luci e ombre, in coppie attaccate, e quando l'ombra si affievolisce e si dilegua, la luce che si attarda ed è lenta a scomparire diventa ombra per un'altra luce. E così la vostra libertà, quando perde i ceppi, diventa essa stessa il ceppo di una più grande libertà. Grazie a tutti.